Continua a brillare il distretto Orofo-Arettino, ancora traino dell'export della provincia, ma anche del paese. Il dato delle esportazioni della provincia di Arezzo del secondo trimestre 2024 segna un più 46,1%, confermando il trend di crescita già visto nei primi tre mesi dell'anno e portando il bilancio dei primi sei mesi a più 7 miliardi e mezzo di euro, con una variazione percentuale del più 39,8%. Si tratta di un dato fortemente condizionato dall'andamento eccezionale del comparto Orofo, sottolinea Massimo Guasconi, presidente della Camera di Commercio di Arezzo Siena. Nel 2024 la gioielleria e orificeria è tornata ad essere la prima voce dell'export provinciale, sorpassando il comparto dei metalli preziosi, con una crescita eccezionale, più 138% nel secondo trimestre e più 135,8% nell'intero primo semestre, che si è concretizzata in un flusso di prodotti pari a circa 3,9 miliardi di euro nei primi sei mesi. Si tratta di un incremento veramente anomalo che ha origine in un particolare mercato, quello turco, che dalla fine del 2023 ha presentato una vera e propria esplosione. Crescono poi anche gli altri principali mercati di destinazione, Emirati Arabi, Stati Uniti e Francia, con la sola eccezione di Hong Kong. Non solo orificeria, però, come evidenzia il segretario generale Marco Randellini. Il grande malato regionale, il settore della moda, commenta, ha mostrato in provincia di Arezzo nel secondo trimestre un minimo segnale di ripresa che va a compensare le perdite registrate ad inizio anno.